Rispetto all'anno scorso la disoccupazione è salita quasi all'11%, l'anno scorso era all'8,7%, quindi quasi tre punti in più, pari a 595.000 persone che in Toscana stanno cercando lavoro. Altro dato preoccupante e interessante, purtroppo, è il fatto che di queste 195.000 persone, 31.000 in più rispetto all'anno scorso, circa 313.000 hanno sopra i 39 anni. E sopra i 39 anni per tutti è sempre molto più complicato il trovato lavoro perché le imprese, quando vanno a somma, si rivolgono per ovvi motivi anche a persone più giovani, anche perché devono essere formate e quindi riqualificate, eventualmente cambiassero lo settore laborativo. Altro aspetto fondamentale e preoccupante di questa situazione è lo stock di imprese esistenti in Toscana. Nel 2013, al 30 giugno del 2013, erano circa 361.000, al 30 giugno del 2014, secondo Banca d'Italia, sono passate a 357.000. Quindi abbiamo perso anche 4.000 imprese, piccole e medie imprese, specialmente le imprese tra i 10 e i 49 dipendenti, che sono, come dire, l'elemento essenziale per creare lavoro. Altro aspetto fondamentale, semplice lo dice la Banca d'Italia, è che il valore delle opere pubbliche messe a gara rispetto al 2013 è diminuito del 30%. Ciò vuol dire che anche questo straordinario veicolo, che sono le opere pubbliche, non ha in questo momento l'effetto di risolvere l'economia e quindi c'è un'ulteriore sofferenza per quanto riguarda l'occupazione. Ultimo dato, non marginale, forse il primo, è il monitoraggio della Banca d'Italia fatto sull'elegazione dei prestiti. Rispetto al 2011, i prestiti erogati dalle banche al sistema creditizio a tutte le imprese toscane sono diminuiti del 7%. In particolar modo, le quelle erogate all'attività manufatturieri, che è un po' il core business della nostra economia, sono diminuite del 13%. A fronte di una politica della Banca Centrale Europea, a volte a essere espansiva. Questo denota che questo combinato disposto è micidiale. E i provvedimenti dell'Unione Toscana, da Germania, da Prendi Stato, i bandi, servono soltanto per arrivare a una situazione, ma non per rivettere il trend che purtroppo è negativo. Quindi proposte? Noi proponiamo un'attenzione maggiore alle piccole e medie imprese, una vera semplificazione. Proporremmo anche, non vuole essere una provocazione, l'azzeramento del PIT, perché i dati sulle costruzioni di un settore edelico sono ancora più gravi. Abbiamo perso il 50% rispetto al 2010 di fatturato. E da questo punto di vista, quindi, la Regione Toscana, oltre a fare bene quello che ha fatto per quanto riguarda Giovanni Sì, i provvedimenti per il distrato del tirocinio, ha fatto molto poco per quel settore delle piccole e medie imprese, che è quello che sta soffrendo molto più. Anche perché il piccolo aumento positivo dello 0,8% dell'export riguarda pochissimi settori, ma in particolar modo non riguarda il settore manufatturiero.